Dopo la riunione che si è svolta questa mattina all'Aquila tra le mura di Palazzo Silone è stata raggiunta l'intesa nel centrodestra per la formazione della nuova giunta regionale d'Abruzzo, un parto che però non è stato indolore a causa dell'abbandono della riunione da parte del coordinatore della lista civica Azione Politica Gianluca Zelli, contrariato per l'esclusione dall'esecutivo. Al termine di un summit durato oltre tre ore tra il presidente Marco Marsilio e coordinatori dei partiti della coalizione è stata trovata la quadratura del cerchio annunciata dallo stesso governatore di Fratelli d'Italia. L'assetto è di quattro assessori tra cui il vicepresidente e il posto di esterno alla Lega che con il suo 27,5% e 10 consiglieri regionali eletti avrà la maggioranza anche in giunta come chiesto senza tentenamenti dai vertici regionali e nazionali tra cui lo stesso Matteo Salvini. Un assessorato a ciascuno andrà a Forza Italia, 9,07% e tre consiglieri che avrà anche la presidenza del Consiglio regionale e il sottosegretario alla presidenza della giunta e uno a Fratelli d'Italia che ha già il presidente. Si tratta quindi come prevedibile di una giunta a trazione leghista visto che i salviniani alla luce delle elezioni del 10 febbraio scorso sono da considerare gli azionisti di maggioranza della coalizione di centrodestra. Nelle prossime ore saranno resi noti nomi e deleghe e a tal proposito domani il presidente Marsiglio terrà una conferenza stampa. Fuori dai giochi quindi azione politica, 3,47% è un consigliere che aveva chiesto l'assessorato tecnico. Abbiamo determinato la nuova giunta che darà l'Abruzzo il futuro che merita, annunciato il presidente Marsiglio al termine della riunione alla quale hanno partecipato i deputati Giuseppe Bellachioma e Luigi Deramo, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore regionale del Carroccio, il senatore Nazario Pagano coordinatore regionale di Forza Italia e Telvardo Sigismondi coordinatore dei Meloniani e Zelli che ha lasciato l'incontro un'ora prima senza rilasciare dichiarazioni e scuro in volto per l'estromissione dall'esecutivo. Ora dobbiamo solo determinare i dettagli su nomi e rispettive deleghe, ha aggiunto Marsiglio, ma l'intesa politica c'è, la maggioranza c'è e quindi abbiamo svolto un lavoro costruttivo.